Reagire nel momento più complicato della stagione è scuotere una classifica che si fa sempre più preoccupante e farlo senza il proprio capo cannoniere. E' la non semplice missione che nel fine settimana attende il Bisceglie, ospite della Virtus Francavilla, nel derby del Giovanni Paolo II, domenica in quella che ha tutte le sembianze di una potenziale sliding door della stagione. I nerazzurro stellatici arrivano dopo un filotto negativo di quattro sconfitte maturate contro Ternana, Catania, Avellino e Catanzaro e con ben 13 reti complessive al passivo. Nel derby di Francavilla la squadra dovrà fare a meno anche di Andrea Cittadino, il suo giocatore più rappresentativo. In 12 presenze con il Bisceglie l'ex Foggia ha segnato 4 gol e servito 2 assist. Con una squadra a segno 12 volte in stagione Cittadino ha di fatto inciso sul 50% delle marcature. In assenza del suo faro, Mister Buccaro, a sua volta ancora squalificato, potrebbe anche cambiare sistema di gioco puntando sul 4-4-2 con due attaccanti centrali più vicini. Al netto dei moduli occorrerà un cambio di rotta per scrollarsi dal penultimo posto, oggi condiviso con il Potenza. In soccorso al Bisceglie non viene nemmeno la statistica. Contro la Virtus Francavilla non sono mai arrivate vittorie sin qui in trasferta. E nella sola gara, giocata tra i due club in casa della Virtus tra i professionisti, stagione 2018-19 al Fanuzzi di Brindisi, è stata vittoria del Francavilla per 2-1 con le reti di Sirri e Partipilo.